Come ti chiami? Io mi chiamo Girolifanto, sono un ex D.P. Fraiford da Fondri, io con Enzo Pagliaccia portavamo avanti il gruppo dei disoccupati come mai sei venuto qua? La solidarietà umana non ha limiti e dovremmo essere tutti purtroppo quello che vanno. Ho visto che è arrivato degli alimenti, sai che li ha mandati? Vuoi dire che ha regalato questa roba? Il Carlo del Paese, ha pianto la bocciola fulana. Un carissimo amico che ha un panificio e due o tre punti vendita, purtroppo sono avanzi ma sono avanzi molto buoni, non vedo perché si devono buttare quando si possono rendere. Pensi che se altri facessero la stessa corsa sarebbe un ottimo risultato? Sarebbe troppo bello, purtroppo l'egoismo umano non ha limiti anche qui e siamo rinforziati da un'altra corsa.